Buongiorno e buona domenica. Breve aggiornamento con le notizie sul traffico. Oggi gli spostamenti sono agevolati dallo stop ai camion in vigore dalle 7 alle 22 in un contesto di tempo stabile ovunque che offrono un'altra opportunità di godere una giornata fuori porta, al mare, ai laghi, in montagna. In questa domenica poi sono in calendario diverse manifestazioni fieristiche che richiamano un numero elevato di visitatori con ripercussioni in avvicinamento alle aree espositive. Code in questo momento si registrano proprio allo svincolo di Parma per tutti i veicoli diretti al Salone del Camper. Ricordiamo che oggi si corre la gara del MotoGP di San Marino e della Riviera di Rimini al Misano World Circuit Marco Simoncelli e in considerazione della forte affluenza verso l'autodromo già ci sono delle code proprio allo svincolo di Rimini Sud. Molto trafficata questa mattina la 27, la Mestre Belluno e si registrano code per un chilometro proprio alla barriera di Belluno per tutti i veicoli diretti alle località del Cadore e Cortina d'Ampezzo. Come di consueto monitoriamo in real time le immagini di Cigione in diretta dall'area bolognese a Bologna Fiera sulla 14 come vedete si viaggia con tutta tranquillità si viaggia agevolmente in tutte le carreggiate. Scendiamo nel tratto laziale dell'autosole all'altezza di Colleferro anche qui abbiamo flussi veicolari vivaci in entrambe le carreggiate. Vi comunico che sulla 5 la Torino-Courmayer si è verificato un incidente che sta creando dei rallentamenti. l'incidente si è verificato tra Morgè e Aosta in direzione Torino. Segnalazione sul grande raccordo anulare di Roma di un altro incidente con coinvolgimento di persone ferite il tratto è quello tra Salaria e Casilina e si è verificato proprio in prossimità dell'area di servizio Settebagni. Queste al momento le notizie di maggior rilievo grazie per l'attenzione da Alessandra Canale di Rai Pubblica Utilità guidate con prudenza fate buon viaggio e a voi tutti una piacevole domenica con la programmazione di Rai News. Arrivederci.